Dal 9 al 12 di novembre, questa settimana, si svolgerà la Fiera Cavalli Verona. È la fiera più importante in Europa e gravita intorno al settore del cavallo, equitazioni, rodei, per giungere domenica alla cosa più importante che è la Coppa del Mondo. Perché è presente CNA Rezzo? Perché sono dieci anni che noi collaboriamo con Fiera Cavalli portandogli aziende, quest'anno ne abbiamo 20. Sono aziende che producono abbigliamento per equestre, cashmere, bisotteria, benessere alla persona e tanti altri prodotti. Vi aspettiamo a Fiera Cavalli ovviamente! Fiera Cavalli